Siamo nel 1897 e Roberto Ferruzzi dipinge la sua Madonnina, una delle opere più celebri del Novecento. Anche chi non è un uomo d'arte l'avrà vista, anche solo per caso, magari dalla nonna, dalla zia, infatti, santine stampe sono ovunque in Italia. L'opera ha avuto un successo strepitoso. Con questo dipinto, infatti, Ferruzzi vinse la seconda biennale di Venezia. I modelli per questo quadro furono la ragazza veneziana Angelica Cian di 11 anni e il suo fratellino Giovanni. Con tutta probabilità l'artista si innamorò della bellezza semplice della ragazzina. Curioso poi che l'opera inizialmente doveva rappresentare una semplice maternità e poi, solo successivamente, gli è stato dato a furor di popolo connotazioni religiose. In effetti, è perfetto per rappresentare la Vergine. Ha una bellezza semplice, pulita e umile. La perfezione della semplicità. L'opera originale purtroppo è perduta e anche questo è molto strano e dove possa essere finita rimane un grande mistero. Pare che sia finita nelle mani di un ambasciatore americano che la inviò negli Stati Uniti su una nave durante la Seconda Guerra Mondiale e fu affondata dai tedeschi facendo sparire per sempre l'opera dell'artista. Però si pensa e si sostiene che il quadro in realtà possa essere arrivato anche a destinazione e faccia parte tuttora di una collezione privata negli Stati Uniti. Fatto sta che i diritti d'autore fortunatamente non furono comprati ed è per questo che conosciamo l'opera. Poi, la storia triste. Dalle ricerche fatte, la Dolce Angelina, la modella del dipinto, ebbe addirittura dieci figli ma per la prematura morte del marito, la giovane vedova si trovò probabilmente in una situazione economica durissima e non si sa cosa accadde, forse un esaurimento nervoso, forse una depressione. Fatto sta che la Dolce è ragazza finì in un manicomio dove morì nel 1972. Eppure la Dolce Angelina vive ancora, vive in quell'immagine, vive nell'amore popolare, vive nell'arte, nella bellezza di un momento eterno con il proprio fratellino, il cuore nella vita è tutto e questa dolce opera lo racconta perfettamente.